Sì, avrò di festeggiare! Oh no, tu sei tutta vestita bene e io no! Lalli, lo puoi aiutarmi? Certo! Prendi un metro a nastro! Prendi le misure! Scegli il tessuto! Oh, è una scelta difficile! Fatto! Verde! Prendi la soffa! Prendi le forbici! Cuci! Manca qualcosa! Mi serve una fantasia! Ok, dipingiamo delle stelle! Wow, voglio provarlo! Questo vestito è fantastico! Non sono in ritardo, vero? Adoro ballare! Oh, è soffocante qui! Ho bisogno di un drink! Non mi sento bene! Cosa le sta succedendo? Oh my gosh! Presto chiamate un dottore! E se fosse contagioso? Ho paura per lei! Arriva l'ambulanza! Prendi le parti! Scegli una cannuccia! Prendi una stampa! Rimuovi le clip! E voilà! Aggiungi i ganci! Ho portato gli snack per gioia! Overdose di zuccheri! Usiamo solo un lecca lecca! Magia di Lali Lu! Aggiungi una cordina! Gioia dovrebbe svegliarsi presto! È stata portata qui in ambulanza! Cos'ha che non va? Indietro ha bisogno d'aria! È priva di sensi! Le faremo un'iniezione! Oh no, non si sveglia! Dobbiamo fare qualcosa! E se non migliorasse mai? Aiutate la nostra amica! Ho sentito tutto e alla fine! Maschera di ossigeno! Trattamento intensivo! Oh, non funziona! I suoi parametri vitali stanno crollando! Uno, due, tre, scarica! Non ha aiutato! Cosa succede? Viva! Sfere della memoria! Proprio quello di cui abbiamo bisogno! Premi mi piace! Così che gioia possa migliorare! La frequenza cardiaca si sta stabilizzando! Presto! Abbiamo bisogno di più mi piace! I parametri vitali sono tornati alla normalità! Ma perché non si sveglia? Abbiamo bisogno di un nuovo piano! Prendi della gomma a piuma! Riempi il barattolo! Trova una mezza sfera! Posiziona la cupola! Decora con le gemme! Prendi un tubo! Una capsula per mantenere gioia sana e salva! L'aiuteremo! Questa è un'emergenza! Premo il pulsante rosso! Ma perché no? È troppo spaventoso! Oh, che imbarazzo! Ragazzi, questa è la nostra ultima possibilità! Va bene, facciamolo! Andiamo! Cos'è quel rumore? Cosa succede? Ah, una capsula per salvare gioia! Oh my gosh! Sarà bene! Ragazzi, portatela dentro! Respira a malapena! Mi dispiace così tanto per lei! È pronta! Avvia il programma! Manca ancora qualcosa! Non si sta svegliando! Ho un'idea! Sveglieremo gioia adesso! Dracoli! Funziona! Qualcun altro ha idee? Attenzione! Proviamo così! Forse una sveglia? Ho un'idea! Potrebbe funzionare! Esatto! Un bacio d'amore! Non guardate me! Non sono pronto per questo! Tristezza non è il momento di piangere! Mi sento così sola, senza gioia! Ragazzi, dobbiamo fare un casting! Prendi della gomma a piuma! Delinea il modello! Segna con i trattini! Voilà! Incolla! Provali! Presto alle audizioni! Ragazze, siete pronte? Ci siamo? I concorrenti stanno aspettando! Primo candidato! Sono così imbarazzato! Sei coraggioso! Mostraci cosa sai fare! Posso andarmene adesso? Oh no! Imbarazzo non ce l'ho fatta! Avrei più fortuna la prossima volta! Sono così imbarazzato! Paura, vai! Forza! Puoi farcela! Forse più tardi! I'm scared! Non sono pronto per questo! Oh no! Cringe! Ok, rabbia è il tuo turno! Hello! Kennedy, ti è di un po' di musica! Sì, alza il volume! Chi è la persona che ti piace? Diccelo nei commenti! Oh, è un sì! Sei tu quello che cercavamo! Prendi un cilindro e attacca un bastoncino! Dipingiamolo di rosso fuoco! Perfetto! Disegna delle fiamme! Aggiungile al martello ed è pronto! Aiuterà a rompere la capsula! Ok! Non funziona! Ti tirerò fuori! Ci riprovo! Sì, ha funzionato! È così bella! Bacciala! Aiutala a svegliarsi! Oh, amore mio! Non ha funzionato! È inutile! Siamo senza speranza! Sono così arrabbiato! Cosa? Chi è quella? Sono venuta a portare amore! Lasciatemi provare! Senti il tuo battito! In sincronia con il suo! Bacciala! Oh, dove sono? Stai meglio! Avevo così paura che non ti saresti svegliata! Ehi, giù le mani! Mia cara! Ecco! Wow! Thank you! Vuoi uscire con me? Yes! Facciamo i pattini! Prendi un taglierino! Accorcia la zeppa! Dipingi gli stivali! E aggiungi i lacci! Trova del cartone a specchio! E incollalo sul fondo! Perfetti per pattinare sul ghiaccio! Wow! Come lo sapevi! Benvenuta sulla pista! Che sorpresa! Il mio primo ricordo felice! Ecco i tuoi pattini! Provali! Non sono troppo stretti! Evviva! Andiamo! Vieni, mi rabbia! Vola! Aspetta, chi è quello? Un gattino! È in pericolo! Un messaggio dalla persona che mi piace! Un adesso! Amore mio, stai bene! Anche il gattino è preoccupato! Mi fa male la testa! Ti porto in braccio! Lani e Lu, abbiamo bisogno di aiuto! Non preoccuparti, sistemeremo tutto! Prendi una salviettina! Avvolgi! Trova del gesso! Aggiungi l'acqua! Mescola bene! E applica con cura! Non riesco a muovermi! Mi prenderò cura di te! Resterai con me per un po'! Amore mio! Draiaty! Come stai? Comoda? È un po' rigido! Porterò dei cuscini! Ecco tutto quello che ho trovato! Sono così goffo! Molto meglio! Che livello difficile! Amore mio, mi senti? Cosa? Cosa? Ho fame! Ecco! Un hamburger XXL è solo per te! Con becone e formaggio! Finalmente si è addormentata! Caro! Cosa c'è ora? Ti senti meglio? Mi prude il piede! Qui? Sì, è arrivato il giorno! Oggi si toglie il gesso! Apro io! Entra! Puoi fare presso! Fantastico! Le ossa sono guarite! Va tutto bene! Andiamo ad un appuntamento! Prendi una gemma! Scegli delle decorazioni! E assembla! Che eleganza! Ecco qui! Ancora un po'! Oh, non questa fila! Non spingere! Apporna, amore mio! Non preoccuparti, tesoro, va tutto bene! Godetevi il film! È così spaventoso! Il film non è nemmeno cominciato! È ora di una sorpresa! Mi ha lasciata qui? Ma non posso crederci! Oh, mio figlio! Dov'è? Sorpresa! Guarda lo schermo! Vorrei essere così coraggioso! Mi vuoi sposare? Ti amo! Oh, ecco com'è il vero amore! Siamo fidanzati! Oh no! Dov'è il mio abito da sposa? Mi devo sposare! Ho bisogno di un outfit speciale! Prendiamo un po' di stoffa! Un po' di tulle! Raccoglilo! E cuci la gonna! Decora il vestito! E aggiungi le perline! Perfetto per la futura sposa! Dobbiamo scegliere qualcosa! Voglio il vestito più carino di sempre! Oh, questo no! Non mi piace! Che ne dici di questo? Lo provo! Aspetta, serve l'igienizzante! Un paio di spruzzi e ora sei pronta! Vediamo! Oh, non è il mio stile! Che ne dici di questo? Stai benissimo! Lo prendo! È così bello! Mi viene da piangere! Ne voglio uno proprio così! Ecco qua! Thank you very much! Tieni pure il resto! Bye! I germi sono ovunque! Che vestito meraviglioso! Sarà la sposa più bella! Oh! Dove sono gli accessori? Oh oh! Abbiamo visite! Sarà meglio a me! Tesoro, sono pronta! Oh, mi sento a disagio! Cominciamo! Accettate di diventare marito e moglie? Sì! Anch'io? Sì! Io? Ok, anch'io! Sì, sì! Mille volte sì! Lo prendo, lo prendo! Ma tu sei già sposata! La celebrazione è andata alla grande! Scegli un colore! Ci serve solo la custodia! Ridipingi di rosa! Una striscia di gomma a piuma! Chi è quello sullo schermo? Cuffie senza fili! Attaccala! La macchina per le ecografie è pronta! Che film straziante! Ehi, perché piangi? È una commedia! Ho pianto dalle risate! Oh, non va bene! Tesoro, come posso tirarti su di morale? Dov'è il mio gattino? Il gatto è lì! Dolce piccolo! Oh no! Frappi non mi ama più! Tesoro, non piangere! Per te! Che belli! Ma passeranno domani! Cosa fare? Zucchina, andiamo in ospedale! Qual è il problema? Piange sempre! Interessante! Accomodati! Cosa hai intenzione di fare? Ti controllo la pancia! È un bambino! Sto per diventare mamma! Ecco una foto del bambino! È così carino! Stai per avere un bambino! Anche noi! Tutte le ragazze sono delle future mamme! Prendi una pallina trasparente! Una spugna magica! Un po' di rosso! Viola! E bianco! Un anello di nastro! Il palloncino per la rivelazione di genere è pronto! Scopriamo il sesso del bambino! Spero che sia un maschio! Voglio una femmina! Mi chiedo chi avremo! Spero che il nostro bambino assomigli a te! Wow! Che palloncino! Quando sarà la mia festa di rivelazione di genere? Oh, presto! Pronti? È una femmina! Avremo una figlia! Tesoro, anch'io voglio un palloncino! Ecco dei palloncini! Oh, quanti! Dammeli! Sta volando via! Prendetela! Lali Lu, il bambino arriverà presto! Posiziona un modello! Traccia i bordi! Taglia lungo le linee! Prepara i pezzi! Applica la colla! Lali Cadabra! Quasi fatto! Decora con un cuore! Raccogli gli oggetti! Ecco qua, invidia! Grazie, devo andare! Sembra che il bambino arriverà presto! È iniziato! Dove corro? Che chiamo? Tesoro, niente panico! È ora di andare in ospedale! Dobbiamo prepararci! Tutto rigorosamente secondo la lista! Pannonini biberon omogenizzati! Quante cose! Dov'è la roba? Non c'è niente! Non preoccuparti, ho già impacchettato tutto! Non dimenticare il cappello, così non ti scotti! Presto, andiamo! Invidia e paura finalmente arrivano in ospedale! Futuro papà aspetta fuori, per favore! Oh, che paura! Andrà tutto bene, vero? Vai dietro il divisorio! Trasforma in bastoncini! Prendine uno! Taglialo a pezzi! Assembla! Posiziona su una base! Copri con la pittura argento! Prendi una cannuccia di plastica! Attacca il maniglione! Non dimenticare le ruote! Fai pieno d'acquisti! Via allo shopping! Evviva quante prelibatezze! Oh, la mia pancia! È iniziato! Chiamo un'ambulanza! Pronto, mandate subito qualcuno! Mi dispiace, tutte le ambulanze sono occupate! Cosa? Nessuna ambulanza? Come arriveremo all'ospedale? Ah, che male! Fuori tutta quella roba! Siediti qui! C'è un ingorgo! Fateci passare! Ci serve un medico! Cos'è successo? Il bambino sta arrivando! Andiamo in sala parto! Ce l'abbiamo fatta! Che carina! E un'altra! Due gemelle! Due? Non siamo pronti! Anche Invidia ha dato alla luce una figlia! Papà, entra! Oh, è così piccola! Cosa sono questi suoni? Che papà nervoso! Ed ecco la bambina di tristezza! Tesoro, come stai? Che carina! Sono papà adesso? Prendi un contenitore! Più colori! Prendi dell'argilla leggera! Fai una palla! Chi rallegrerà il clown? Oh, la bambina sta piangendo di nuovo! Sono così triste! Tesoro, cosa c'è che non va? Come posso renderti felice? Lo so! Pronto, gioia? Mia moglie sta di nuovo piangendo! Le giovani mamme non dovrebbero essere tristi! Ho un'idea! Questo la tirerà su di morale! Arriverai presto! Sono già qui! Chi è triste qui? Ho un cappello magico! È una buona idea! Cosa abbiamo qui? È un palloncino! I palloncini si trasformano in... Un fiore! Altra magia! Questa è per la bambina! Ecco qua, tesoro! Sei felice adesso? Sì, tesoro! Gioia sa sempre rallegrare tutti! Le mamme sono andate a fare una passeggiata con le loro bambine! Guardate i miei passeggini! Ed ecco il mio! Super colorato! Ecco il mio! Sei sicura che sia nuovo? Basta, me ne vado! Tesoro, perché sei già tornata? Non voglio passeggiare con loro! Ti hanno fatto arrabbiare! Ho il passeggino peggiore! Ne voglio uno nuovo! Presto al negozio! Va bene, come vuoi! Rimuovi la colla! Copri con l'oro! Gomma piuma glitterata! Mettila dentro! Avvolgi con un nastro! Decora con i volani! Attacca il telaio! Un passeggino lussuoso per i genitori più esigenti! Scegliamo! Tesoro, abbiamo abbastanza soldi! Non mi interessa! Aspetta qui! Quale scegliere? Uh, voglio questo! Saranno tutti invidiosi! Per favore, compramelo! Ok! Quanto? Il passeggino è piuttosto caro! Oh no! Non ho quella somma! Tesoro, perché ci vuole così tanto? Spero che siano abbastanza! Paura ha dovuto rinunciare a tutti i suoi vestiti! Ciao ragazze! È un passeggino nuovo! Che bello! Me l'ha comprato mio marito! Finalmente la mamma è felice! Prendi dell'argilla leggera! Prendine un pezzo! Forma una palla! Aggiungi le orecchie! Modella il viso! Acrilico nero! Dipingi il naso! I baffi! Attacca il corpo! Il gatto vuole entrare! Oh, che carino! Vivrai con noi! Guarda questo piccolino! Da dove viene? Questo è il nostro nuovo animale! Ai bambini piace il gatto! No, sono allergico! Fluffy ha deciso di affilare i suoi artigli! Mi ha aggraffiato! Ti prendo adesso! Tutta la casa è sotto sopra! Aspetta finché non ti prendo! Tesoro, non arrabbiarti! Guarda come sono carini! Invidia è andata a trovarli! Che gatto! Ti piace? Prendilo allora! Come si chiama il tuo animale domestico? Scrivilo nei commenti! Ciao ciao! Prendi una stampante! Stampa un passaporto! Ritaglia la copertina! Incolla tutti i dettagli e le foto! Gioia! Invidia! E tristezza! Apri il portatile! Effettua l'ordine! Ecco i biglietti! Grazie! E' ora di partire! I papà si sono riuniti! Sorprendiamo le nostre mogli! Qualche idea? Forse una vacanza? Bisogna acquistare i biglietti in segreto! Dov'è il suo passaporto? Eccolo! Oh no! Si è bagnato! Asciughiamolo velocemente! Dove l'ha nascosto? Qui no! Vuoto! Dov'è? Trovato! Pronto o al passaporto? Fantastico! È tutto pronto! Documenti e biglietto! Li nasconderò nella scatola! Ciao tesoro! Cosa stai facendo? Oh no! L'ha visto! Wow! Cos'è? Doveva essere una sorpresa! Ho rovinato tutto! Le mamme stanno partendo per un viaggio! Divertitevi! Ci manterete! È ora di andare! Sprichiamoci! Ciao ciao! Posso avere la bambina? È ora di crescere! Mi sono sporcata! Tranquilla! Dipingi gli occhi! Aggiungi i punti luce! Fard! Sono carina ma i miei capelli non sono a posto! Sciogli i capelli! Posso avere un vestito nuovo? Ti piace il maglione? È troppo semplice! Dipingi le strisce con l'acrilico! Provalo! Ora la gonna! Nice! Calzini bianchi! Stivaletti! Verniciali! Il look è completo! Grazie, Lalilu! Ehi, cos'è questo rumore? Rabbia e gioia hanno deciso di lasciarsi! Vai via! Non stiamo più insieme! Mamma, papà! Sbrigati! Mamma, ti mancherò! Premi il pollice in su così i genitori faranno pace prima! La mamma ti vuole bene! Oddio! Papà e figlia rimangono soli! Papà, siamo solo noi due adesso! Andrà tutto bene! Nuova mamma! Nuovo look! Non sono ancora pronta! Verde! Rossetto! Ciglia lunghe! Cosa scegliere? Forse il verde? Oh, lo sapevamo! Un taglio di capelli elegante! Nice! Prendi il B-Flex! È una bellissima gonna! I leggings! E un fiocco al collo! Disegna una stampa floreale! Il look è pronto! Disgusto? Cosa ne pensi? Non male, grazie! Stai benissimo! Andiamo da mia figlia! Tesoro, questa è la tua nuova mamma! Ciao, ragazza! Questa va qui! Così va meglio! Che casino! Ragazzina, metti subito in ordine! Va bene, facciamo pulizia! Qui? E qui? Anzi, si sta impegnando tanto! Così va meglio! Portami un po' di caffè! Ecco qua, l'ho fatto io! Sembra che la piccola sia molto nervosa! Oh no! Il vestito è tutto sporco! Mi dispiace, non volevo! Oh no! Il mio giocattolo preferito! Le darò una lezione! Nessuno ha il diritto di sedersi su Fluffy! Il mio povero piccolo! Ho un'idea! Trova un contenitore! Prendi un po' di colla! E ancora un po'! Qualche goccia di colorante! Mescola con una bacchetta! In laboratorio! È il momento della magia! Aggiungi l'ingrediente miracoloso! Mescola! È una melma! Cospargi di glitter! Ancora! E ancora! Quanti glitter! Impasta con le dita! In diversi colori! Com'è elastica! Mettine un po' nel barattolo! Adesivi sui coperchi! Abbiamo fatto un ottimo lavoro! La riempirò di melme! Una nella borsa! Un'altra nell'armadio! E nei trucchi! Uh! Sarà divertente! Fluffy, nasconditi! Dov'è il mio telefono? Che cosa? Che schifo! È ovunque! Sono arrabbiatissima! Cosa c'è nella scatola? Prendi il contenitore delle lenti! Rimuovi l'eccesso! Copri con l'acrilico! Uno strato spesso! Aggiungi le cinghie! E una maniglia! Decora con gli adesivi! La valigia è pronta! Mettici dentro dei dolcetti! Si chiude a malapena! Rosa, verde, arancione, gialla, rossa! Conta quante valigie ci sono! One, two, three, four, five! Esatto! Cinque! Mettiamoli a posto! Cosa abbiamo qui? Nella custodia dei giocattoli! Dai, quasi! I miei dolcetti! Ne ho tantissimi! Ad ansia piace avere delle scorte! Ecco le mie valigie! Ho fame! Forza! Vai a pulire! Andiamo, sbrigati! I giocattoli sono spazzatura! Dolcetti! Disgusto ha un grande appetito! Sono miei! No! Come hai potuto? Non è rimasto niente! Non ne posso più! Voglio andare via! Prendi il cappo! Taglia il fondo! Ora è verde! È bellissimo! Avvolgi il feltro attorno alle ginocchia e ai gomiti! Prendi dell'argilla leggera! Modella le ginocchiere! Ora sei pronta per viaggiare! Thanks! Attenta! Presa! Mamma, sei tu! Ad ansia è mancata la sua mamma! Sì, siamo di nuovo insieme! Prendi, Fluffy! Sta bene! Mamma e figlia hanno tanto di cui parlare! Tesoro, vuoi fare uno spuntino? È delizioso! Tesoro mio, questo è per te! Un nuovo amico per il tuo Fluffy! Che giornata felice! Figlia, dove sei? Vieni subito a casa! Sì, papà! Ecco dei soldi per te! Grazie, mamma! A presto, tesoro! Prendi un po' di argilla polimerica! Fai una palla! Modella le gambe! Orecchie e codino! Fai una fessura! In forno! Fatto! Disegna gli occhi! Ora i risparmi sono al sicuro! Mettiamolo sul tavolo! Che bello! Nasconderò il regalo della mamma! Ha un sacco di soldi! Impressionante! Ne ha più di me! Oh, tesoro! Mi sei mancata tanto! Davvero? Certo, figlia mia! Ti prenderò un sacco di giocattoli! Va bene, andiamo! Al negozio! Scegli quello che vuoi! Oh, my God! Voglio queste bambole! Bella borsa! Ora ho abbastanza soldi! Comprerò tutto! Ecco i soldi! E' una nuova borsa! Dov'è il mio salvadanaio? Disgusto ho già pagato! No! Come hai potuto? Non piangere! Ecco il tuo libro di matematica! Povera ansia! Non è giusto! Cosa c'è nella scatola? No? No? Va bene! Prendi il filo di ciniglia! Attorciglialo! Forma una sagoma! Il corpo è pronto! Aggiungi una testa! E le orecchie! Pom pom! Oh, che pelo! Oh, un gatto carino! È pronto per giocare! C'è un intero regno di rifiuti qui! La mia matrigna mi ha detto di portare fuori tutto! Chi è che miagola? Oh, che sorpresa! Lo porterò a casa! Per ravvivere con noi! Sediti qui! Il gatto vuole affilare i suoi artigli! Oh no! Il vestito di disgusto! È il mio vestito preferito! Sciò sciò! Oh, è tutto distrutto! Rovinato! Il micio vuole fare pace! Vattene da qui! Vai via! Tesoro, cosa c'è che non va? Ho prurito ovunque! Sono pulci! Sono ovunque! Dobbiamo liberarcene! Papà, ecco lo spray! Presto! Almeno adesso non verrà morsa! Prendi un pezzo di finta pelle! Cuci! Un altro pezzo! Il guanto è pronto! E la palla? Copri la perlina con l'acrilico! Disegna con un pennello sottile! Ecco qui! Possiamo giocare a baseball! Chi lancia? Prendi la palla! Va bene, preparati a prenderla! Sto per lanciare! Presa! Ben fatto, figlia! La mamma è lì! Prendi! Oh, dritta in testa! Gioia, sei tu? Ti fa male? È un piacere rivederti! Anche per me! I genitori torneranno insieme! Prendi dei bastoncini di legno! Mettili insieme! Rimuovi l'eccesso! Tira la tela! Mettile sul cavalletto! Taglia una cannuccia! Riempi con la pittura! Metti il coperchio! Il set di pittura è pronto! Disgusto non sa ancora le novità! Sono così felice che tu sia tornata! Chi è quella? Oh, adesso se ne va! Addio disgusto! Siamo così felici! Disegniamo insieme! Coloratevi le mani! Palmi colorati! Mettiamoli sulla tela! Una firma! E mettiamolo qui! Così va molto meglio! Finalmente la famiglia è riunita! Oh, cos'è? Devo controllare! È una bambina! Oh, che piccolina sporca! Dobbiamo sistemare le cose! L'Alelu ha trovato una bambina! Taglia la busta! Pulisci lo sporco! Pulisci accuratamente! Ridipingi il pannolino! Sfuma con i pastelli! Aggiungi una toppa! Ecco tua figlia! Grazie, L'Alelu! Siamo a casa adesso! Ecco qua, tesoro! Vuoi un giocattolo? Forse un sonaglino? Guarda quanto è divertente! Deve essere affamata! Devo comprare del latte! Posso avere un biberon, per favore? Certo, scegli! Bastano! Sì! Presto dalla bambina! Tesoro, ho portato del latte! Provalo! Uh, i bambini crescono così in fretta! Andiamo al parco giochi! Vai a giocare con i bambini! Quanti bambini ci sono? Scrivilo nei commenti! One, two, three... Sono Judy! Piacere di conoscerti! Ai pennarelli disegniamo! Wow, che sole! Posso prendere in prestito un pennarello? Facciamo un po' di trucca, bimbi! Ops! Oh, non puoi farlo così! Oh, ho un'idea! La Leloo ci serve un kit! Ok! Prendi del cartone! Taglia! Metti insieme i pezzi! Inserisci i cerchi di gomma piuma! Aggiungi uno specchio fatto di alluminio! Un cotton fioc! La tavolozza da trucco è pronta! Grazie! Ecco una pittura speciale per il viso! Quanti bellissimi colori! Posso truccarti, mamma? Il processo creativo è iniziato! Nice! Mamma, ti piace? Sono impressionata! Il sostegno della mamma è molto importante! Prendi dell'argilla leggera! Forma una sagoma! Una bambola LOL! Ci servirà solo la testa! Disegna i vestiti! Non dimenticare il viso! Aggiungi i capelli! Taglia un po'! La bambola manichino è pronta per gli esperimenti! Comprate gattini! C'è tanta roba al mercato delle pulci! Non vuoi un gattino? No! Forse dei vestiti! Diamo un'occhiata! Che ne dici di questo? Un manichino per acconciature! Oh, è così caro! 42 dollari! Tesoro, non abbiamo così tanti soldi! Ecco tutto quello che abbiamo! E la tua borsa? La borsa di Mimili è molto cara! Oh beh, prendila! Basta che tu sia felice, tesoro! Le acconcerò i capelli! Oh, la mia ragazza intelligente! Uh, sei cresciuta! Ha bisogno di un nuovo look! Il tuo nuovo top! Ora prendi un po' di stoffa! Segna i contorni! Taglia lungo le linee! Un meraviglioso blan di sole! Taglia un pezzo di juta! Un po' di pastello! Grazie! Grazie, vado a scuola! Ciao Jane! Ciao! Ehi Jane, verrai ad un appuntamento con me! Ci vediamo alle 5! Ciao! Oh my God! Devo prepararmi! Fatti un bel trucco! Ok! Come sto? Oh no! Eh, lo sistemeremo! Wow! Fantastico, grazie! Eccomi! Sei bellissima! Oh! Cos'è che non va? Ehi, puoi truccare anche me? Yeah! Prendi del polistirolo! Dagli forma! Taglia della gomma piuma glitterata! Avvolgi il pezzo! Bigodini morbidi! Attacca il manico! Pulsanti fatti di Jenny! Un altro attacco! Un Dyson per veri parrucchieri! E' fatto! Ok! Nice! Ecco! Grazie! Sì, ora posso realizzare il mio sogno! Hi! Hi! Oh, c'è così tanta roba qui! Wow! Oh tesoro, eccoti! Ciao mamma! Cosa stai cercando? Ho bisogno di un Dyson! Ecco qua! 500 dollari! Sì, ne ho abbastanza! Che mi dici di questa borsa? Proprio come quella che avevo! Cosa dovrei scegliere? Cosa dovrebbe fare Judy? Comprare il phon o la borsa per la mamma? Scrivilo nei commenti! Scelgo la borsa! Grazie tesoro! Andiamo a casa! Bye! Tesoro, ho una sorpresa per te! Buon compleanno! Ecco il tuo regalo! Wow, che cos'è? È un Dyson! Diventerà una parrucchiera! E' ora di mostrare le tue abilità! Prendi un po' di carta! Copri con l'acquarello! 50.000 dollari per il vincitore! Aggiungi un sigillo adesivo! Decora i bordi! Prendi un nastro rosso! Perfetto! Certificato per il campione! Judy è alla gara di acconciature! Vincerai! Ecco le nostre concorrenti! Chi pensi che vincerà? Diamo inizio al concorso di acconciature! Entra in scena la prima modella! Iniziamo! Ok! Ti piace? Cosa dice la giuria? I giudici sono delusi! No! Date il benvenuto alla nostra seconda modella! Adesso tocca a me! Nice! Fatto! La giuria è impressionata! Congratulazioni alla nostra vincitrice! Premio 50.000 dollari! Ora posso aprire il mio salone! Sono così orgogliosa di te, cara! Thank you! Prendi un foglio di gomma a piuma! Taglia le parti! Applica la colla! Assembla! Maniglia a forma di fiore! È uno specchio! Aggiungi una cornice! Decora con le perline! Attacca il tavolo! Dipingi di rosa! Il tavolo da toletta è pronto! Judy avvia la propria attività! Finalmente abbiamo trovato un posto! È ora di sistemare i mobili! Ciao! Il tuo ordine è qui! Fantastico! Ecco i soldi! Thank you! Wow! Ed ecco il resto della configurazione! Proprio come l'ho immaginata! Il mio sogno si è avverato! Inaugurazione del salone di bellezza! Ho bisogno del trucco! Anch'io! Judy si mette al lavoro! Sta andando alla grande! Un buon lavoro porta buoni soldi! Lali Lu, sono ricca adesso! Prendi le misure! Tessuto B-Flex dorato! Una bellissima gonna! Un top coordinato! Tulle glitterato! Maniche a sbuffo! Collana! Spazzola i capelli! Wow! Perfetto! Judy si precipita a un'intervista! Dov'è? Sono qui! Cominciamo! Ho lavorato molto duramente e ho creduto in me stessa! Oh, è così bella e intelligente! Anche Judy lo ha notato! Che bel ragazzo! Oh no, mi ha notato! Oh, lascia che ti aiuti! Grazie, sono Rick! Vuoi fare una passeggiata dopo lo spettacolo? Si piacciono! Rick e Judy hanno deciso di sposarsi! È di nuovo in ritardo? No, sono qui! Sei d'accordo? E tu? E anch'io! Ti amo, tesoro! È ora di lanciare il bouquet! Signora, che adorabili gattini! Conosciamoci meglio! Yes! Prendi un sassolino! Decora con le conchiglie! Disegna dei rami! Assembla una palma! Gli stuzzicadenti torneranno utili! Immergi nell'acrilico blu! Stampa i biglietti! La luna di miele attende la nostra adorabile coppia! Tesoro, ecco il mio regalo! Wow, una luna di miele sull'isola! Thank you! Ho già fatto la valigia! Andiamo! Goodbye! Sei pronta? Sì, non sono mai stata ai tropici prima! Buon viaggio agli sposi! Welcome! Zona di turbolenza! Oh no! Stiamo precipitando! Indossate le maschere di ossigeno! Stiamo per schiantarci! Ciao, piccola! Sei destinata a nascere in una famiglia ricchissima! Prepariamo la tavolozza! È ora di cambiare il pannolino! Lavora con il pennello! Cuccio per una bambina super ricca! La piccola fa il bagno nel lusso fin dall'infanzia! Le ragazze incinte sono in ospedale! Dove sono? Sei in ospedale, non preoccuparti! Ciao, vicina! Ragazze, è ora! La mia bambina! Sono così felice! La mia bambina! Megan, vuole mangiare! L'infermiere è divertita! Dove sono? Eccolo! Prendilo! La patarobo ti insegue al pilota! Fermo! Una ciotola! Ridipingi! Carta da pacco! Carta pesta! Un supporto realizzato con spiedini di legno! Questo è il massimo che la nostra famiglia al verde può permettersi! La povera Susie si prende cura del giardino! Quanto lavoro! Oh, tesoro! È ora della ganna! Hai bisogno di una culla! Riposa, piccola! E la mamma continuerà a pulire! Oh, cosa c'è, tesoro? Ti annoi! Hai bisogno di giocattoli! Ottimo lavoro! La mamma ha fatto un sonaglino! Ti piace? Pony, tu andrai dall'Ali-Loo! Togli i vestiti! Attacca le ciocche!